Ma guarda, come sto? Sto a riposo, non sopporto già più. Alziamo un po' la mano, lo facciamo vedere. Ecco, ecco la mano infortunata. Sto a riposo perché adesso ho questo gesso che dovrò tenere ancora per una ventina di giorni. Questa è la parte più fastidiosa perché comunque sono limitato a fare un po' tutte le cose, non posso muovermi, al momento non posso neanche sudare. Adesso lunedì prossimo avrò la medicazione della ferita, dove ho i punti. Poi dopo aver fatto quella medicazione, l'ortopedico mi ha dato il dialibra che posso iniziare a muovermi, posso iniziare a fare un po' di attività. Naturalmente niente con la palla perché comunque non posso ancora prendere colpi, niente sulla mano, però già iniziare a muovermi è già qualcosa che comunque mi aiuta a ritornare di nuovo in forma per quando dovrò rientrare. Abbiamo decine di mail Marco, quando più o meno? Guarda, quando? Adesso sarà un po' dura perché comunque dovrò fare dei raggi di controllo per vedere un pochettino come sta calcificando l'osso, la frattura. Io spero, e anche l'ortopedico mi ha dato la sua parola, che per fine marzo dovrei rientrare al 100% con la squadra. Cosa ci puoi dire sul mercato? Come ci stiamo muovendo? Inevitabilmente la situazione di Marco ci porta a avere una grossa assenza. Al di là di quello che spesso sento commentato, che è il discorso della partita, c'è tutta una serie di problematiche che si porta dietro, che per noi sono difficili da affrontare, soprattutto per un periodo così lungo, soprattutto perché vogliamo che Marco faccia le sue cose con calma, non vogliamo essere lì allora, 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 perché dopo non viene bene. Invece Marco è il nostro patrimonio e quindi vogliamo che sia pronto, soprattutto nel momento importante della stagione. Quindi anche soltanto avere la problematica in questo momento di chi marca Fesenco in allenamento, che potete chiedere a lui, non è un lavoro semplicissimo. Lui viene pagato per marcare Fesenco in allenamento, per picchiarsi. Poi la domenica gioca così per piacere, capito? Il suo stipendio lo guadagna a fare botte con Chirillo e quindi stiamo cercando una soluzione giusta. Si è fatto male proprio in un contatto di gioco con Fesenco, no? Sì, con la maglia di Fesenco, con la maglietta di Fesenco. Dopo quando le cose devono capitare, si dice in queste parti quando il diavolo ci mette le corne. Esatto. Quindi ci vuole una figura giusta che si inserisca con intelligenza in un gruppo, diciamo, di persone per bene e che capisca qual è il suo spazio, quale può essere adesso, quale sarà tutti i giorni e quale sarà un domani quando tornerà Marco. Quindi senza fretta cerchiamo di trovare la figura giusta.